Quali sono le cause più comuni di degenerazione maculare? La degenerazione maculare è una malattia dell'occhio che colpisce la visione centrale di una persona e fa apparire gli oggetti sfocati o sfocati. Sebbene gli scienziati non siano ancora abbastanza sicuri delle esatte cause di degenerazione maculare, ci sono diversi fattori di rischio noti. Questi includono età, genetica, fumo, razza e altre malattie e condizioni mediche. La vecchiaia sembra essere il fattore di rischio più importante per la degenerazione maculare. In generale, la maggior parte dei pazienti con degenerazione maculare ha passato la mezza età e gli occhi e la vista che invecchiano stanno iniziando a sbiadire. Si stima che le persone di età pari o superiore a 75 anni abbiano all'incirca il 30% di possibilità di trattare la degenerazione maculare in uno o entrambi gli occhi. Questo è spesso definito come degenerazione maculare legata all'età, o a RMD. Anche la genetica sembra essere un importante fattore di rischio della degenerazione maculare. Recenti ricerchi e studi hanno dimostrato che questa malattia dell'occhio è molto probabilmente ereditaria generalmente gestita in famiglia. Gli studi hanno dimostrato che l'assenza o la variazione di un determinato gene può causare una persona che sviluppa la degenerazione maculare. Ricercare ulteriormente questa teoria potrebbe consentire ai medici di testare questo gene e, eventualmente, aiutare a prevenire l'insorgenza della degenerazione maculare. Mentre molte persone sanno che fumare sigarette può causare una varietà di problemi di salute, molti probabilmente non sono consapevoli che potrebbe essere una delle cause di degenerazione maculare. Quasi un quarto dei pazienti che sviluppano sigarette affumicate con degenerazione maculare precoce. Altri farmaci e gli effetti collaterali di alcuni farmaci possono anche mettere una persona a rischio per lo sviluppo della degenerazione maculare. Questi farmaci comprendono clorochina, clorpromazina e fenotiazina. Sebbene una persona di qualsiasi razza possa sviluppare una degenerazione maculare, sembra che i caucasici siano più a rischio di qualsiasi altra razza. Le persone con la pelle chiara tendono anche ad avere occhi chiari, come il blu. Gli scienziati credono che quelli con gli occhi chiari abbiano un aumentato rischio di degenerazione maculare. Alcuni scienziati ritengono che il pigmento negli occhi più scuri possa proteggere meglio gli occhi dal sole, ma la teoria che ciò sia correlato a cause di degenerazione maculare è ancora molto discussa. Sebbene altre malattie e condizioni mediche non siano cause di degenerazione maculare, possono contribuire a favorire l'insorgenza o la progressione della malattia. Ipertensione, bassi livelli di colesterolo buono e obesità sono alcune di queste condizioni mediche. Alcuni ricercatori hanno persino concluso che affrontare questi problemi può rallentare la progressione della degenerazione maculare o fermarla del tutto. Tuttavia, non esiste una cura reale per la malattia e alla fine la degenerazione maculare causa cecità. Grazie.